La familiarità della chiesa è proprio l'ingresso, l'ingresso perché si vedono i resti della chiesa originaria e quindi della facciata che era addossata alle mura romane, il campanile e parte della navata degli archi che vedevano la navata centrale da quella laterale. Quindi era già tra l'avata, con gli archi a tutto sesso. Sì, proprio bello. Poi da notare anche quella colonnina là della bifora che è scolpita, mi sembra come motivazioni, decorazioni geometriche. Vuoi fare un saluto per i nostri tre o quattro spettatori? I sentieri del Moricin proseguono, seguiteci.